Dagli Atti degli Apostoli In quei giorni Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia dell'Asia si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono alcuni perché dicessero, lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli iscrivi. Gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni che dissero, costui non fa che a parlare contro questo luogo santo e contro la legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato. E tutti quelli che sedevano nel sinedrio, fissando gli occhi su di Lui. Videro il suo volto come quello di un angelo. Beato chi cammina nella legge del Signore. Anche se i potenti siedono e mi caluniano, il tuo servo medita i tuoi decreti. I tuoi segnamenti sono la mia delizia. Sono essi i miei consiglieri. Beato chi cammina nella legge del Signore. Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi decreti. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Beato chi cammina nella legge del Signore. Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Ho scelto la via della fedeltà. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Beato chi cammina nella legge del Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnau, alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero, Rabbì, quando sei venuto qua? Gesù rispose loro, in verità, in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui, il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora, che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato.